Un saluto da Vitali Immobiliare. Sono Matteo e ti voglio raccontare di un immobile che abbiamo appena venduto. Ho conosciuto i proprietari, Alice ed Edoardo, circa un anno fa. Proprio come me stavano aspettando il primo figlio. Stavano quindi vivendo un momento di grandi cambiamenti. L'arrivo imminente del bimbo li aveva convinti che era il momento di cambiare casa. Per quanto fossero innamorati del loro bilocale, era chiaro che sarebbe stato davvero troppo piccolo per la nuova famiglia. Una serie di avvenimenti poi aveva rallentato il loro progetto. Il piccolo era nato e in qualche modo si erano adattati nell'appartamento, decidendo quindi di rimandare la vendita. Qualche giorno fa Alice mi ha richiamato dicendo che era arrivato finalmente il momento di mettere in vendita la casa. Quindi ci siamo rivisti e abbiamo insieme pianificato una strategia di vendita. Gli ho detto che se mi avessero seguito avrei venduto la loro casa in 90 giorni. Settimana scorsa, decisi più che mai, ci siamo attivati. Abbiamo fatto un servizio fotografico professionale, abbiamo girato una videopresentazione e giovedì sera l'appartamento era online, sul nostro sito, su Facebook, su YouTube e su tutti i portali immobiliari. Sabato mattina abbiamo fatto le prime visite. Una ragazza che ha portato il mio collega Tommaso si è subito innamorata dell'appartamento. Il tempo di organizzare una seconda visita sull'immobile ha formalizzato la sua proposta. Mercoledì, solo 5 giorni dopo la messa in vendita dell'appartamento, ho potuto chiamare Alice ed Edoardo per dargli la bella notizia. Sono davvero molto soddisfatto di come ha arrivato il loro desiderio grazie al lavoro di tutta la squadra. Questa è Vitali Immobiliare. Ciao! Vitali Immobiliare. Tutta un'altra agenzia.